Da una parte la bicicletta distrutta, a terra una scarpa, tracce di sangue. A fianco il fossato dove un giovane viene scaraventato dopo un volo di alcuni metri. Poco distante l'auto con i segni dell'impatto tremendo sul fanale. Le istantanee successive al dramma. Solo pochi minuti prima su quella bicicletta si trovava un 27enne della Guinea, residente a Treviso. Al volante dell'auto una Fiat Punto, un 48enne ivoriano. Viale della Repubblica, a Treviso, poco prima delle 7 del mattino. Il dramma si consuma in pochi secondi e con una dinamica che la polizia locale di Treviso sta cercando di appurare. L'auto preveniva da Villorba, si dirigeva verso Treviso, la bici in senso opposto. Lo schianto alle 6.40, tanto forte da sbalzare il ciclista nel fossato per una decina di metri. Il 48enne si ferma subito, sconvolto, e cerca di fornire il primo soccorso al giovane, mentre scatta l'allarme al SUEM e alle forze dell'ordine. L'ambulanza trasporta il 27enne all'ospedale Caffoncello in gravi condizioni. È attualmente ricoverato in prognosi riservata. Preoccupa soprattutto il serio trauma toracico riportato. Inevitabili ralentamenti al traffico in strada ovest, la viabilità gestita dai vigili fino a che i mezzi sono stati portati via sotto sequestro.